Might solve a mystery, or rewrite history DuckTales, woo! Every day they're out there munchin' DuckTales, woo! Ehi, che v'è? Topolino? Giù la notte, è finito. No! 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 No, no! Grazie a tutti. mamma dimmi tesoro hai visto la saga quello con paperone grande la copertina la serie oro prendeva solo polvere l'ho buttato hanno finito tutti i topolini normali dovrai spendere 7 euro per prendere quello con il gadget plasticoso c'era il gadget più bello di tutti i tempi ed ovviamente l'hanno finito subito l'hai comprato si bene ma ci sono solo storie appuntate sono soldi eh comunque se il video ti è piaciuto lascia la pagina metti una campanellina nei commenti attiva le reaction su youtube ho fatto confusione ma vabbè per non perderti le altre rubriche video molto più belle di questa ciao no 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 Grazie.